Allora, qua c'è un problema perché praticamente sto riguardando il foglio in mano del biglietto di Flavio che mi dice che è partito per un viaggio, ma sono abituato ai viaggi di Flavio, cioè lui dice domani vado in Malesia a incontrare i veri Sandoga e dico ma fermo dove vai? Però stavolta mi preoccupa perché mi dice sono andato a vedere come vivevano i veri pirati antichi, così poi c'è famo una puntata, dice proprio il biglietto. Ora io non ho capito se Flavio sta viaggiando nel tempo, cioè nello spazio ancora ancora, se sta viaggiando nel tempo, cioè inizio a preoccuparmi. Comunque Flavio è sparito, non ho capito se è fra i pirati ottomani del Cinquecento o la Golden Age carabica, non lo so, di sicuro sta raccogliendo materiale per la prossima conclusiva per questa season, puntata prima dell'estate, quindi prossima puntata sarà col botto, io oggi sono da solo ma non sono da solo perché ho un grande ospite che dopo la sigla vi introdurrò, un artista fire performer che i pirati ottomani li ama davvero tanto, si chiama Paolo Mele, mi farà compagnia oggi che Flavio è indietro nel tempo, ma solo dopo l'annuncio da solo la sigla. Buongiorno! Eccoci qua, eccoci qua, ti vedo già carico e questa è un'ottima cosa per me, che oggi come sai sono senza Flavio, allora bene che tu sia già carico. Paolo Mele, Paolo benvenuto qui a Radio Pirata con noi. Vuoi raccontare, io so che tu sei un artista, però voglio che tu racconti un attimo il tuo profilo prima di andare a parlare di cosa ti lega alla pirateria in un certo senso. E' un po' anche la mia una vita da pirata se vogliamo perché tutto inizia un po' con una folgorazione, con un rapimento. Sono stato testimone nel 1999 di una danza col fuoco e in maniera del tutto casuale due giorni dopo ho conosciuto questa persona che danzava col fuoco e io ero rimasto estasiato, solo che poi non ero riuscito ad incontrarla, ma due giorni dopo per caso lo rincontro e viaggiamo insieme otto giorni e mi spiega la relazione con la fiamma, oltre ai primi rudimenti di movimento del bastone. Questa cosa da sé poi cresce e divento un fire performer così amatoriale, fino a diventare uno dei primi effettivamente professionisti della danza col fuoco. E' sempre appassionato di letteratura, di storia e di storie, di mare perché sono cresciuto in pratica nell'acqua e mi sono ritrovato felicemente a conoscervi per puro caso perché stavo facendo delle ricerche sulla pirateria e siete sbucati voi. E guarda questa cosa che hai detto, grazie che ci segui, infatti poi siamo stati messi in contatto, tu hai voluto raccontare la tua storia perché Paolo, in una delle sue performance, vado un attimo a introdurre il tema, fa uno spettacolo a tema Uluch Ali o Ucciali, che ora qui entriamo praticamente di nuovo nella tematica dei pirati ottomani che sono in realtà di origine europea e poi convertiti all'Islam. La storia di Uluch Ali è una storia molto particolare perché parliamo di un pirata italiano, ora poi con Paolo vedremo bene questa storia, ma parliamo di un pirata nato in Calabria e che poi, rapito da bambino, tra l'altro proprio dalla ciurma di Aricodemo in persona, a cui abbiamo dedicato tantissima importanza anche ultimamente nel torneo, rapito quindi proprio da Aricodemo in persona, si trova a vivere prima come schiavo e poi si converte. È bellissimo il paragone che hai fatto in un certo senso che anche tu, in giovane età, presumo, non so quanti anni avessi quando hai avuto questa folgorazione, però sei stato in un certo senso rapito, colpito da un pirata di strada e anche tu poi sei, diciamo, totalmente buttato in quella via. È bello il paragone che hai fatto anche tu, sei stato convertito presto, rapito in un certo senso dall'arte. Ma la domanda che ti faccio prima di presentare questo personaggio di Ucciali, che è interessantissimo, cosa ti ha spinto a voler fare? Perché effettivamente nelle performance di strada si vedono a volte magari esercizi, virtuosismi più che altro liberi, non tematici. Cosa ti ha portato a voler raccontare una storia e perché proprio una storia di pirati così particolari peraltro? Dunque, Danilo, innanzitutto, non lo stiamo dicendo, però il tuo caro collega è ospite dei bagni di Algeri, proprio del nostro Ucciali, lo abbiamo intercettato per mare. Ah, è stato rapito, Flavio. Stiamo aspettando il vostro riscatto, ora facciamo tutto finta così, però vabbè, ti racconto. Allora, il mio perso... Poi concordiamo. Vengo dagli studi di lettere, ho una forte passione per quella che è la realtà e poi anche la costruzione della realtà nel racconto. Tutto nella mia vita, di quello che faccio in maniera eccelsa, diciamo così, avviene tutto per caso. Così come per caso, da ragazzo con la mia fidanzatina dell'epoca, andammo d'estate in un campeggio lì vicino, le castella, di dove è originario Giovanni Luigi Galeni, poi diventato Ucciali, e facemmo, insomma, eravamo lì a Capurizzuto, in questo campeggio nudista, che ve lo consiglio, è fighissimo. Andammo una sera a prendere, insomma, un aperitivo alle castella lì vicino, e c'era questo meraviglioso castello su questo isolotto collegato alla riva da una lingua di terra e nella piazzetta sul lato della terra c'era al centro, in pratica, questo busto di un saraceno. E io mi chiesi, ma com'è possibile che qui dove hanno subito veramente le sette piaghe da parte degli invasori marinareschi e barbareschi, fanno addirittura un busto ad un saraceno. Comunque la cosa finì lì. Dopo tanti anni, ascoltando il nostro buon Barbero, mi arriva qualche cenno, mi metto a ricercare e quel personaggio che veniva raffigurato nel busto era appunto Giovanni Luigi Galeni, poi diventato Ucciali, originario di Le Castella, rapito ora molto probabilmente da Kairaldin, Nariko Demo, Barbarossa, ma la storiografia non è mai certa per questi eventi. Ci sta anche chi parla del Cicala, Sinan Pasha, detto anche in arabo. Er Cicala. Er Cicala, sì, sì, quello che cantava, se la cantava, insomma, in romanesco. E così mi sono appassionato a questa storia di questo personaggio che addirittura gli è stato innalzato un busto. Perché questo? Scusami se devio il percorso della nostra puntata, nostra... Scusa Flavio, non sto solo per questa volta. Vorrei imporre l'accento sul perché, come siete soliti fare anche con Flavio, gli abitanti di un posto tendono poi magari ad abbracciare quello che è la controparte. Parliamo un attimo del Sud Italia di quel periodo. Il Sud Italia dell'epoca era in pratica un vicereame spagnolo ed era quindi considerato semplicemente alla stregua di un serbatoio di risorse per poi spenderle per la conquista del nuovo mondo, le lotte contro i pirati a voi tanto cari dell'altra parte del mondo e l'armamento di navi. E quindi il Sud Italia veniva pressoché abbandonato e quelli che erano i contadini dei vari luoghi erano legati in maniera legislativa ai luoghi e non potevano volendo neanche andare via erano in pratica quasi proprietà privata del signorotto locale, conte, duca, quello che sia. E nella provincia, proprio in quella zona di Le Castella, addirittura che aveva subito anche invasioni da parte di altri duchi che erano in contrasto col duca locale, il vescovo si mosse a compassione chiedendo al duca locale di liberare dal gioco dell'appartenenza a quel territorio le famiglie perché dopo tante invasioni sia cristiane che barbaresche i nuclei familiari non erano più in grado neanche di sostentare se stessi, figuriamoci, a pagare il dazio agli spagnoli. Quindi ci troviamo alla presenza di persone, di una cittadinanza che nata povera sarebbe morta povera, chi nasceva contadino per quanto intelligente, scaltro, a meno che non avesse magari seguito la carriera ecclesiastica sarebbe morto inesorabilmente in quello stato sociale. Mentre la nobiltà, anche per personaggi di dubbia e intelligenza, garantiva uno status di vita decisamente alto locato. E quindi anche per questa ragione molti cristiani scappavano, oltre a quelli che venivano rapiti e poi si convertivano, ma anche alcuni maestri d'ascia della stessa Repubblica di Venezia scappavano ad Istanbul perché venivano considerati delle alte maestranze, non dei semplici lavoratori, venivano pagati profumatamente e facevano la vita dei nababbi anche loro e lì in quest'altro luogo dove la nobiltà non esisteva se non per quella del pascià. Tutto il resto della catena sociale avveniva solo per merito. E quindi iniziamo un attimo a far capire al nostro pubblico il perché molti andavano verso il lato oscuro. In effetti sai che a noi piace collegarci sempre ai temi sociali, quindi mi piace che hai già preso tu questa piega raccontando una storia che in un certo senso è uno spaccato del meridione d'Italia. Poi come sempre la pirateria ci offre spunti ambivalenti, contrastanti, opposti, ossimorici perché da un lato c'è il tema di pirati che si trovavano a divenirlo, a divenire marinai perché rapiti, proprio come è successo tra l'altro a Uccialì e Uccialì stesso a suo modo è stato un vero e proprio incubo per i suoi connazionali. Tra l'altro lui era un ammiraglio veramente bravissimo perché poi magari ci racconterai meglio ma ha partecipato anche con estrema forza, con estremo vigore alla battaglia di Lepanto, quindi insomma anche un capitano davvero valente ma un incubo del Mediterraneo, però come dici tu c'è anche un'altra lettura di cosa un altro stile di vita poteva rappresentare per persone che erano abituate alla povertà e non certo alla libertà. Questo è sicuramente molto interessante come al solito fanno riflettere entrambe le visioni del tema ma quello che volevo chiederti ora è come si inserisce? Quindi tu ci hai detto che questa storia ti ha interessato perché l'hai conosciuta proprio dai locali. Tra l'altro tu mi dicevi che quando giri per i vari paesi cerchi sempre di raccogliere storie di pirateria del posto perché spesso i luoghi italiani hanno storie o leggende legate ai pirati saraceni. Tu cerchi in ogni città dove vai di raccontare qualcosa legato alla pirateria, giusto? Sì, ovviamente anche... Io non sono di parte per i saraceni. Certo il mio personaggio si chiama Scirocco perché porta soprattutto le suggestioni del Medio Oriente. Bello. Ma cerco di avere uno sguardo super partes perché le invasioni da una parte sono violente mentre dall'altra parte sono viste come gesti eroici così come anche i nostri cavalieri di Malta. Quando tu dici cavalieri di Malta l'immaginario vola al sacrificio, all'eroismo, alla difesa delle proprie sponde. Beh, i cavalieri di Malta sono la causa della perdita di Cipro da parte di Venezia perché anche loro sulle coste ottomane piratavano allo stesso modo di come facevano i raiz barbareschi sulle nostre. E quindi cerco di passare al pubblico questa doppia visuale e quindi anche di raccontare gli avvenimenti del posto che molto spesso sono stati persi dalla memoria storica dei posti. Ovviamente enfatizzando quello che è il loro sentire. Però cercando a questo punto proprio di far sentire gli invasi, quelli che vengono invasi da un esercito armato proveniente dal mare, allo stesso modo. Insomma, far sentire il pubblico che storicamente loro che erano quelli che subivano l'invasione erano uguali a quelli che subivano l'invasione dall'altra parte del mare. Quindi sì, mi diverto tanto a scoprire le storie dei vari posti e a raccontare da diverse angolazioni quelle che erano le invasioni dei pirati saraceni. Si vede che ci segui molto perché vedo che la butti anche tu sulla politica, sui temi così, quindi si vede che hai già capito il taglio del nostro podcast. Ma vi adoro e mi seguo proprio per questo perché condivido al 200%. E anche tu lo fai nel tuo spettacolo. Provando un attimo, perché a me piacerebbe appunto, e piace in questa puntata di oggi, passare dalla storia di Lucia Lee a il fatto che un artista contemporaneo che abbiamo la fortuna di intervistare, che ci racconta un suo progetto, sia stato affascinato da questo personaggio piratesco, come lo siamo noi, al punto tale da trasformarlo in una performance. In un certo senso quindi tu, possiamo dire, visto che il teatro, le performance, sono anche atti sacrali, tu in un certo senso riporti nelle nostre città in vita delle ombre, degli incubi, delle immagini che erano davvero impresse sui nostri territori, perché improvvisamente, in un'occasione normale di una città estiva, rispunta all'incubo, rispunta al fantasma di un saraceno. Quindi lo fai riapparire con enorme forza e racconti la sua storia. Tu dicevi, interpreti Scirocco, quindi interpreti prima un narratore esterno, quasi un cantastorie, e poi vai verso la storia di Lucia Lee. Come funziona esattamente questa apparizione? Sì, il mio personaggio, allora in arte, io mi chiamo Lucignolo e il fuoco. che poi vado, come Lucignolo e il fuoco, presento poi i vari spettacoli che vado ideando. In questo caso, Scirocco, che ormai matura già da un bel po' di tempo, è stato pensato come appunto un vento che porta le suggestioni anche terribili, così come anche dolci, accompagnato da musiche ogni volta ben curate e scelte. Quindi con il mio narrato cerco di riportare le persone ad un vissuto che fortunatamente non è più il loro, ma era quello degli antenati. Siccome lavoro molto a braccio, non ho un vero e proprio copione, lavoro con un canovaccio e vado adattandomi anche alla possibilità di interazione col pubblico, quindi cerco di prepararmi il più possibile perché a domanda ci deve essere risposta, cerco appunto di creare una bolla emotiva e sognante che si espande dal mio narrato e coinvolge le persone. Cerco di portarli attraverso il narrato appunto in queste suggestioni a farli sentire loro come se fossero su una nave pronte a sbarcare oppure fargli immaginare come ci si sente in catene senza sapere cosa sarà del giorno dopo oppure come ci si sente ad essere un contadino che vede arrivare all'improvviso un'orda di persone armate vestite di turbante e pantaloni grossi che vengono a rapirti e venderti come schiavo oppure farli sentire come ci si sente ad essere il pirata loro stessi. Quindi nei vari momenti dello spettacolo cerco di, narrando sempre la storia in questo caso di Uccialì però Scirocco è un contenitore e più in là diventerà sicuramente qualcosa di più grande e ruberà anche ai vostri racconti se non altro di Targut dei Barbarossa che sono storie magnifiche e quindi così attraverso appunto un coinvolgimento emotivo attraverso anche grazie alla musica i numeri narrati diventano poi performance di danza col fuoco con mari strumenti per poi riasciugarsi sempre sulla musica di nuovo nel narrato come se un sogno fosse iniziato riconfluito in un altro sogno ritornato quindi faccio un po' questo andirivieni e me li porto a spasso per 45 minuti e la particolarità di questo spettacolo purtroppo è che la gente resta lì imbambolata non se ne va ma non applaude non applaude perché è lì con la bocca aperta esatto vuole godersi però è bellissimo insomma quindi diciamo in potenza Scirocco al momento racconta la storia di Uccialì ma in futuro tu potresti avere un intero spettacolo lunghissimo dove racconti varie storie di vari corsari questo è un po' il sogno diciamo non un sogno ad un solo spettacolo lunghissimo ma ad un personaggio che ha vari capitoli da aprire e voi sarete sicuramente citati nelle varie edizioni perché i vostri resoconti le vostre ricerche specie sui fratelli Barbarossa su Aruccio come lo chiami tu che poi diede il nome Barbarossa ai fratelli perché Babà Arouge divenne Barbarossa e salvò migliaia e migliaia di musulmani che erano stati scacciati dalla Spagna di Filippo II e li portò lì in Argeria quindi in fondo è un personaggio non buono ma di più tanto da appunto chiamarlo papà mentre per noi era un terribile quindi esatto sì però anzi potremmo fare uno spettacolo insieme ma magari mangiamo il fuoco se Flavio mangia il fuoco sicuro si mette lì a me mi mettete non so mi tirate due coltelli ecco ma il fuoco come si inserisce in questa narrazione perché di sicuro il personaggio di Ucciali l'abbiamo definito un uomo di grande vigore un combattente anche bello focalizzato spietato e abile era detto ma soprattutto furbo sappi che era considerato un furbo era astuto potente più che potente era furbo la sua astuzia era la sua forza tanto che in alcuni momenti lo si trova a scappare davanti per esempio alla flotta partita da Malta capitanata da Andrea Doria lui scappa perché capisce che non può manovrare mentre in altre situazioni davanti magari a flotte più grosse della sua con la sua astuzia le abilità di marinaio e capitano riesce a manovrare e mettere in fuga lui truppe più grandi quindi anche nella vita lui era così perché non essendo comunque di nascita musulmano era sempre un attimo tenuto come dire in secondo piano era lui è stato in fondo per se non sbaglio ben sei anni il secondo di Dragut quindi parlando di Dragut esatto non uno da poco si si era fatto la nomina un po' se vogliamo del lecca apro e chiudo parentesi ci vuole portaborse di Dragut esattamente perché non avendo lui una fama guadagnata sul campo fin diciamo dalla formazione ma avendo preso il titolo di Raiz solo molto più tardi solo grazie comunque al fatto che seguiva Dragut lui non veniva considerato un grande ammiraglio ma si conquista un posto diciamo d'onore grazie alla sua appunto abilità di manovrare che è quello che anche gli porterà fortuna nella battaglia di Levanto però ti ripeto lui era temutissimo non per la sua forza e per la sua aggressività non era di fama un efferato anzi ci sono reso conti di quelli che erano i suoi servi di origine italiana giù a Tunisi che invece lo consideravano un benefattore perché aveva creato una collina dove aveva messo tutti i servi di origine italiana schiavi comprati perché rapiti e gli aveva dato una sorta di libertà una sorta di piccola repubblica indipendente degli schiavi italiani cose particolari che era Nuova Calabria no? sì Nuova Calabria esattamente anche il tema delle repubbliche si create si fonde però da come lo descrivi un po' astuto un po' ruffiano e poi il fatto che sia italiano diciamo rimette in gioco degli stereotipi il Paolo Rossi del Mediterraneo l'italiano all'italiana ma il fuoco appunto come si inserisce nel tuo spettacolo come lo fai muovere per raccontare o evocare queste ombre allora qui stiamo per aprire un capitolo che potrebbe essere abbastanza intenso se di lungo per favore taglia spezzami le gambe in scivolata non c'è problema lo capirei ti spiego quando io ho iniziato a danzare col fuoco che era il 1999 la danza col fuoco praticamente non esisteva tutto quello che si vedeva col fuoco per strada erano lotte tra il bene e il male come forme di rappresentazione ovviamente in feste medievali feste di piazza lotte tra il bene e il male angeli e demoni o lo stupore del fachiro da solo io ho iniziato a giocare con questo bastone a farlo volteggiare intorno a me provandoci davvero tanto sollievo tanto da riuscire a superare anche i momenti difficili della mia vita ed elaborando movimenti parliamo del 99 quindi un periodo in cui non c'era internet non c'erano tutorial non esisteva niente ero io il mio bastone e i libri dell'università perché studiavo lettere all'epoca quindi ho evoluto le mie le mie qualità appunto così poi unendole al fuoco ho cominciato a cercare l'armonia fra la musica il movimento e la fiamma così come mi era stato indicato da quella persona di cui ti raccontavo prima e questo questa ricerca dell'armonia ha fatto sì che il bastone col fuoco nello specifico e poi successivamente lo studio di tantissimi altri strumenti sia diventato in pratica una sorta di penna uno strumento vero e proprio quindi non più l'utilizzo della fiamma per spaventare o stupire ma l'utilizzo della fiamma a fini espressivi quindi proprio questo come dire questa inversione di concezione dell'utilizzo dello strumento col fuoco come se fosse non so una penna tu con la penna puoi scrivere una poesia puoi scrivere un pensierino puoi disegnare ma il tuo strumento è la penna non è detto che tu con la penna debba fare una sola cosa o la chitarra se tu sai suonare la chitarra puoi fare il flamenco puoi fare la classica puoi fare le bionde tricce gli occhi azzurri e poi insomma tu hai la capacità di utilizzare la chitarra come strumento di espressione di quello che senti in quel momento ed è quello che è avvenuto a me con la fiamma quindi la fiamma è la base di tutto quello di cui ti sto raccontando perché lo sviluppo di questo percorso ha portato le mie capacità performative a fare in modo che anche quando non hai un livello tecnico altissimo hai comunque la capacità di comunicare attraverso quello strumento ed è quello che anche insegno nei miei corsi non mi importa se gli allievi siano bravissimi ma mi importa che loro mettano se stessi nell'utilizzo dello strumento con i movimenti che stanno portando e da questa capacità di utilizzare gli strumenti col fuoco come strumento espressivo è nato poi tutto il resto non è il mio primo spettacolo ho fatto anche spettacoli riguardanti il blues riguardanti tante altre cose sempre utilizzando appunto la fiamma come veicolo espressivo e sono poi approdato finalmente a questa nuova dimensione che mi sta totalmente portando in giugiole della narrazione che è una cosa in cui sono sempre stato abbastanza timido e invece narrare delle vicende mediterranee mi piace tantissimo infatti guarda teatro di narrazione unito al fuoco anche prima che tu dicessi che hai fatto qualcosa di originale effettivamente è anche una cosa che uno girando fra gli artisti di strada anche d'estate che si vedono spesso è quasi mai vista il connubio di queste due forme d'arte tra l'altro se voi che ci seguite cercate poi Lucignolo Fuoco anche su Instagram c'è una foto bellissima di lui in costume da Scirocco dove hai proprio in mano una sciabola di fuoco è bellissimo anche l'effetto da vedere ti faccio una domanda che forse apre un discorso ancora più ampio quasi da tesi di laurea a questo punto però io quando parlo di teatro ci collego sempre una parte magica una parte spirituale sacrale quindi vado un po' in discorsi meno razionali ecco ma la fiamma quando tu fai queste performance è qualcosa che tu devi dominare o tu hai mai notato che la fiamma in un certo senso ti segue come se avesse un'intelligenza sua non so se mi spiego nella domanda c'è un coordinamento fra il performer e la fiamma che quasi riesce a trovare un equilibrio o è comunque un elemento che dici no sono io che lo controllo devo stare attento che non mi bruci com'è il rapporto fra l'artista e la sua fiamma la vuoi più narrata più scientifica più magica possibile d'accordo allora anche appoggiandosi a filosofie e spiritualismi vari noi siamo energia il nostro corpo scinde le molecole di ciò che mangiamo raccogliendone l'energia per nutrire il nostro corpo che quindi è fatto di energia ed è un'energia in divenire ok è un potenziale energetico che si sviluppa lentamente un po' come diceva Eraglito il divenire il tutto scorre non puoi mai bagnarti due volte nello stesso fiume perché tutto è in continuo movimento questo continuo movimento nei corpi ha una sua velocità che tu puoi ascoltare entrando in contatto attraverso la meditazione il training autogeno fare semplicemente silenzio poi ogni religione e filosofia ha trovato il suo modo per guardarsi dentro ed ascoltarsi dall'altro lato invece la fiamma è energia allo stato attivo e lo sprigionamento dell'energia potenziale di quello che sta bruciando sia esso un pezzo di legno sia del combustibile sono comunque materiali che provengono originariamente da una forma organica come noi ma che in quel momento stanno esprimendo in maniera cinetica velocissima quello che è il loro potenziale energetico quindi c'è di base che la fiamma a te non ti ascolta ma sei tu a dover ascoltare lei ok così come sei tu a dover ascoltare la tua energia la danza col fuoco nel mio concetto è cercare di sincronizzare sintonizzare trovare una sorta di connessione fra quello che è il tuo ritmo del movimento corporeo con lo strumento ed il ritmo cinetico della fiamma come se appunto la fiamma suona ad una frequenza e tu devi trovare l'accordo che vibra alla stessa frequenza quindi è più un seguire è un seguire cercando di trasportare questo fiume in piena che è la fiamma nelle direzioni narrative ed espressive con quello che sei tu e il tuo strumento i tuoi modi le tue ricerche espressive sia corporee con il mimo con la danza con il teatro con la musica con la narrazione quindi è cercare appunto un seguire e direzionare allo stesso tempo non penso non so se tutti arrivano a capire però così la vedo io no è vero mi hai dato proprio la risposta che immaginavo sul tema delle energie eccetera ma giustamente come facevi notare anche tu diamo qualche altro dettaglio sulla vita di Uluc Pascià perché la gente dice la gente in realtà ormai i nostri ascoltatori amici e amiche hanno ormai capito che noi usiamo il tema dei pirati per parlare poi di tutto di arte di cultura di politica di vita quindi sicuramente apprezzeranno però magari c'è qualcuno che dice sì ma Uluc Pascià dove l'avete lasciato diamo una do una nota biografica interessante cioè che lui vi abbiamo detto fatto schiavo da Ricodemo perché si converte pare dimmi tu Paolo se anche dalle tue ricerche risulta questo che per poter avere soddisfazione da un altro marinaio che voleva lui sfidare a duello e uccidere senza però essere arrestato quindi per essere protetto dalla legge islamica e potersi vendicare da testa calda ha detto io mi converto così poi il marinaio che mi ha fatto un torto che pare lo avesse schiaffeggiato lo ammazzo tranquillamente e non mi arrestano per omicidio ti risulta che sia questa la genesi della sua conversione guarda una cosa che mi diverte è un po' il gioco delle commarelle di quel napoletano allora ci sono entrambe le versioni perché sai non essendoci una storiografia ufficiale c'è la versione che è questa che lui si converte per poter liberamente uccidere un altro schiavo perché uno schiavo che uccide un altro schiavo all'epoca viene condannato a morte mentre un convertito un musulmano che ammazza un infedele non è condannato a morte perché insomma lo può fare quindi ci sono entrambe le versioni sia quella che lui si sia convertito prima per poterlo ammazzare perché veniva schernito costantemente sia quella che una volta ammazzato l'altro schiavo e andando incontro condanna a morte il suo padrone Jafar tra l'altro sembra anche lui di origini calabresi avendolo già di buon occhio gli abbia proposto di convertirsi per salvarsi la vita e addirittura poi gli abbia offerto sua moglie in sposa gli abbia dato un ruolo preminente sulla nave insomma si poi se vuoi ci sta un'altra versione favolistica però sì insomma Giovanni Luigi Galeni diventa Uluc Ali ovvero il tignoso perché Uluc all'epoca significava il tignoso perché lui appunto aveva la tigna e sembra che questa lite sia nata proprio perché lo prendevano in giro perché non c'aveva capelli perché le aveva persi insomma per la tigna questa è un'altra cosa il tignoso lo trovi spiegato come il rinnegato che ti dà un'idea di lui che invece questa altra versione che ci dà è interessante anche questa poi hai descritto il rapporto importante con Jafar anche lui di origine italiana poi hai descritto il rapporto importante con Dragut tra l'altro lui diventa la morte di Dragut a capo della flotta di Dragut e quindi insomma comunque è un ruolo importante sì dopo il bordello che hanno fatto per l'assedio di Malta perché insomma Malta non è stata presa perché Dragut che era il comandante di quella spedizione è arrivato tardi e chi c'era prima di lui ha fatto delle scelte strategiche pessime per cui per fortuna mi verrebbe da dire ora possiamo raccontare l'assedio di Malta dal punto di vista vittorioso dei Cavalieri di Malta dell'eroica resistenza andatevi a cercare ascoltatori il materiale che c'è sulla serie di Malta perché davvero ci sarebbe da fare fumetti film serie tv cioè è meraviglioso o una puntata di Radio Pirata ne promettiamo molte e le faremo anche su quella su Malta sarebbe davvero fantastico magari potresti anche intervistare qualcuno che è dell'ordine perché ancora esiste l'ordine dei Cavalieri di Malta e a proposito dei Cavalieri di Malta proprio a Lepanto il nostro Unuch abile capitano o astuto capitano come dicevi tu tornò avendo compiuto imprese vittoriose e portando con sé uno stendardo dei Cavalieri che all'epoca era proprio un'onta riuscire a sottrarre un vessillo e portarlo in trofeo era veramente un atto di una grande impresa ma ora che abbiamo dato qualche altra spolverata su Luch torniamo a parlare di teatro aspetta aspetta per favore di Lepanto io vorrei parlare di Lepanto se voi ne parliamo dopo o ne parliamo adesso ecco se vuoi lo teniamo ci torniamo andiamo un divaghi e ci torniamo fra poco perché prima volevo farti una domanda se mi consenti però Lepanto ti è l'alì che poi ci interessa raccontarla e poi andremo verso la morte di Luce la nuova Calabria eccetera io volevo chiedere torniamo un attimo alla parte artistica tu quindi sei un fire performer io volevo fare con te questa riflessione e volevo capire il tuo punto di vista da persona che queste cose le vive ogni giorno un tema tosto arduo per chi fa teatro per chi quindi vuole fare l'attore per le compagnie teatrali italiane amatoriali che cercano uno spazio per chi sia un performer appunto del teatro è sicuramente trovare i luoghi dove esibirsi perché tu sei una compagnia giovane cosa fai vai al teatro e ci sono i costi i costi di affitto della sala delle locandine la pubblicità il service è difficile il costo della sala prove insomma l'idea di proiettare l'arte teatrale in un teatro ammazza chiunque non parta da un budget alto da una produzione alta e così facendo tagli le gambe a tutta la parte esordiente amatoriale secondo me però l'idea che il teatro debba farsi nei teatri può essere facilmente superata cioè secondo me ora più che mai ora più che mai vista anche l'epoca in cui è bene tornare a animare le città a stare uniti sarebbe bello che l'arte si riappropriasse degli spazi urbani cioè perché io ho bisogno di un palco del service dei microfoni perché non posso andare appunto in una piazza e raccogliere le persone che ho intorno e esibirmi quindi da un lato non so se tu concordi su questa idea mia un po' visionaria del teatro che si riappropria delle città dall'altro non so le immani difficoltà burocratiche nel fare comunque anche questa cosa qui perché non so se tu ti devi comunque destreggiare fra permessi oppure se ti puoi mettere in un punto e accendere non credo poi visto che è fuoco quindi cosa ne pensi di questo tema e quanto è facile gestirlo come lavoro bene questo è davvero un quesito da pro da pro 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 allora la cosa è questa magari si potesse andare sto parlando solo del teatro e non del fuoco ok ok il fuoco poi ha tutte altre difficoltà come tu già hai ben detto anche altre difficoltà anzi io sono quasi d'accordo che le istituzioni siano un po' scettiche perché c'è tante persone sconsiderate che si pigliano una torcia in mano e vogliono fare i grandi no c'è bisogno di preparazione assunzione della responsabilità di cosa stai facendo però ritorniamo un attimo al discorso riappropriarsi degli spazi urbani per il teatro e la legislatura attualmente sta diventando sempre più restrittiva non che il nuovo governo sia di quelli pro fricchettoni perché è così che ci vedono parliamoci chiaro quindi da una parte è importante a mio avviso prepararsi 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 studiare 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 e non solo formarsi da un punto di vista della teoria seguendo corsi workshop stage ma anche della pratica perché anche tanta formazione se non la metti in atto non troverai poi eco di quel messaggio dentro di te quindi non diventerai un vero e proprio attore nel senso di colui che agisce quindi innanzitutto c'è bisogno di una motivazione interna ferrea di studio e messa in scena e andare a cercare dove si può entrare in scena ovunque dalla parrocchia alla piazzetta alla festa del quartiere non siamo in Francia cioè perché sarebbe facile dire ragazzi scappiamo tutti in Francia cioè sembra banale anche se sarebbe una soluzione e ci ho pensato poi mi fidanzai con una siciliana ci sono rimasto cinque anni e non sono più partito per la Francia però la mia strada stava prendendo quei lidi vabbè lasciamo perdere tornando a noi bisogna andare in scena ogni volta possibile perché è solo facendo che si fanno le cose solo magari quando tra il pubblico per caso hai un amministratore pubblico vedendo quello che fai ed apprezzandolo anche lui in sede di legislazione sarà un attimo con un altro occhio con un altro punto di vista perché sa di cosa sta parlando in quanto ti ha visto certo non è facile non è semplice non è sempre permesso andare in scena e in questo caso bisogna fare un po' come ci vuole uccia lì che è il senso che cerco di dare al personaggio bisogna essere scaltri essere sempre elastici e cercare sempre il modo di spuntarla cercare sempre come fare a dare magari un colpo al cerchio un colpo alla botte ma fare in modo di andare in scena e piano piano poi si riuscirà ad imporre le proprie condizioni ma all'inizio veramente alcune volte bisogna giocare al gatto col topo magari con i vigili urbani perché in alcune situazioni chiedere al vigile urbano se si può la risposta è no perché il vigile urbano sapendo che c'è una cosa in più lui avrà una cosa in più da fare allora ti tocca trovare il modo di entrare farlo addirittura quasi di volendo anche mettere in luce il vigile urbano che sta per multarti davanti al pubblico e lui sentirsi in imbarazzo in caso di voglia fanamur cioè insomma veramente sono acrobazie però l'importante sì sì l'importante è la determinazione e sapere che tu sei in quella direzione e sapere che non c'è un azimut assoluto ma che per andare in quella direzione sarai a volte costretto a fare delle deviazioni saltare dei fossi a girare delle pietre che non puoi rompere che non puoi scalciare e per fortuna perché queste difficoltà formano anche il carattere e l'intelligenza delle persone quindi più è tosta più ci piace mi piace mi piace un sacco che la vivi con estrema serenità pace interiore è una bellissima cosa questa e invece togliendoci dalla pace interiore andando invece alla guerra raccontaci pure di Lepanto e del nostro Luce in una delle battaglie più importanti dell'epoca beh la battaglia di Lepanto sapete bene cosa ha rappresentato per la nostra sponda della cristianità ovvero un attimo lo stop fondamentale per un determinato periodo anche se molto breve a quello che era quello che era il predominio ottomano sui mari cosa avviene? avviene però che a questo punto guarda ho quasi vergogna perché vado a ricalcare le parole del buon Barbero ok il Barbero ha già detto quasi tutto vorrei dire quindi partono queste navi per andare a insomma per andare a combattere frontalmente quelle che sono quelle che è quella che è la flotta ottomana ma siamo così lenti qua in Europa fra la chiesa gli spagnoli gli italiani i Savoia che non si sbrigano comunque riusciamo ad arrivare finalmente a fronteggiare questa flotta nemica solo ad ottobre considerate che le navi entravano in acqua verso fine aprile così quando il tempo diventava buono non andavano in mare con il maltempo e quindi ad ottobre stiamo parlando ormai della fine stagione quando le navi ottomane avevano già fatto tutto quello che dovevano fare e la maggior parte erano nei porti per rifare la calafatura calatafalatura insomma per quella che è la manutenzione dovuta alle navi quando si presenta di fronte l'epanto la flotta cristiana molti generali non vogliono uscire dai porti e affrontarla ma quello che era il comandante della flotta ottomana dell'epoca che ora non ricordo un attimo che lo cerco non lo ricordo vabbè lo diciamo dopo comunque decide di affrontare comunque la flotta cristiana quindi ordina a tutti di uscire i cristiani hanno con sé tre galeazze che sono queste navi dai bordi molto alti armate di cannoni fino ai denti e con i bordi molto alti i saraceni non hanno modo i barbarischi non hanno modo di assaltarle e ne hanno tre una davanti ad ognuno delle tre parti dello schieramento parte nord parte centrale parte sud nella parte nord e centrale le galeazze fanno strage di saraceni e nulla non c'è proprio battaglia vedi durante i momenti della battaglia la testa del raiz ottomano sopra la picca dei veneziani il giubilo cose molto sanguigne come piacciono a voi la parte sud della flotta ottomana che è quella più lontana dalla costa viene comandata dal nostro Uccialì Uccialì cosa fa? si stacca dal grosso della flotta ottomana che era al nord aprendo un varco aprendo questo varco quelli che aveva di fronte pensano che lui stesse scappando quindi cosa fanno? entrano in questo varco e lui li aggira li attacca da sotto e da dietro e li rende poltiglia in men che non si dica mentre succede tutto questo intanto la parte centrale e la parte nord della flotta ottomana purtroppo o per fortuna vengono distrutte lui ha il tempo di attaccare da dietro la parte centrale della flotta perché dopo aver distrutto il contingente che gli era di fronte aggira anche quello che era centrale e lo attacca da dietro facendo appunto prigioniera quella che era l'ammiraglia dei cavalieri di Malta conquistando il loro stendardo si porta appresso se non sbaglio 12 navi a Traina con relativi prigionieri e uno di questi prigionieri era udite udite Cervantes che poi ne parlerà poi Cervantes lo ritroveremo parlare di Uccialì anche nei bagni di Algeri quando lui è stato poi prigioniero lì sì 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 e il fatto sta che comunque quando la parte centrale e nord finiscono di fare le poltiglia dei cavalieri barbareschi girano la prua verso Uccialì Uccialì dovrà abbandonare le navi che aveva fatto prigioniere e scappare verso Istanbul quando arriva ad Istanbul quelle che sono le sue barche sono solo quello che rimane di tutto quello che era la flotta ottomana quindi lui è il capo di tutto ciò che resta della flotta ottomana a quel punto portando anche lo stemma l'emblema dei cavalieri di Malta il sultano lo nomina Capudan Pasha ovvero ammiraglio supremo della marineria ottomana e grazie a lui poi si cambieranno anche i modi di costruire le navi lì nell'arsenale di Istanbul e in men che non si dica rimetterà su una flotta che ovviamente non sarà più quella di prima ma comunque consentirà poi agli ottomani di fronteggiare ancora i nostri cristiani quindi ha fatto la storia a suo modo sì 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 con la tattica della fuga appunto furbescamente è riuscito all'italiana sì 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 proprio giocare di rimessa e poi attaccare nel punto debole sì su Cervantes anche l'avevamo nominato fra gli schiavi celebri vedi anche la sua storia si intreccia a quella di Uluccialì Uluccialì poi muore da persona libera vittoriosa potente in questo villaggio nuova Calabria ci sono anche lì questi questi pettegolezzi come dicevi anche tu prima secondo cui lui no si era poi pentito di questa conversione voleva tornare alla fede cristiana oppure che anche qua storia all'italiana per vedere mamma aveva faceva dei viaggi in Calabria di nascosto segreti per abbracciare mamma ecco queste le racconti guarda ti dico addirittura varie volte la Spagna il re spagnolo ha provato a corromperlo offrendogli il ducato dell'intero sud Italia ma si ha avuto io di base ti dico ho letto il libro che si chiama Uccialì di Mirella Mafrici che è una ricercatrice autorevolissima ottimo si e poi un altro appunto che vi do se vi interessa insomma la storia dei corsari del Mediterraneo c'è proprio il sito corsaridelmediterraneo.it che è gonfio di cose interessanti insomma si Uccialì è riuscito comunque a dare appunto un colpo al cerchio un colpo alla botte ha preferito ovviamente rimanere dalla parte degli ottomani perché anche diventando magari duca dell'intera Calabria potendo dare a sua madre una casa a sua madre a quanto pare lo aveva rinnegato quando lui tornò per la prima volta a casa la madre non gli apri la porta proprio perché aveva appunto cambiato religione preferì rimanere con gli ottomani dove in fondo ricopriva un ruolo di ben altro prestigio che quello comunque di un vassallo di un re sono state varie ricostruzioni la cosa del tentativo di corruzione è molto molto interessante apre un vuotif enorme se avesse accettato cosa sarebbe successo e io concluderei Paolo a parte per ringraziandoti del tuo tempo invitando chi vuole a seguirti come Lucignolo Fuoco sei attivo comunque sui social dove anche magari qualcuno può vedere le tue date i tuoi spettacoli dove saranno tu dicevi fai anche corsi ma necessariamente legati al fuoco o anche legati alla giocoleria cioè tu ti occupi anche di altri tipi di performance oppure quando hai degli allievi è solo per l'arte della gestione del fuoco mi occupo principalmente di spettacolo e sempre a favore dello spettacolo do dei corsi perché comunque anche il livello tecnico sullo strumento è importante e avere e sapere che il tuo pubblico aumenta in persone che sanno cosa sta vedendo è una cosa che mi spinge appunto ad insegnare perché se io faccio un passaggio complicatissimo ma la persona che sta guardando non capisce cosa sto facendo non insomma quindi io insegno proprio perché aumenti il numero di persone che sia in grado di muoversi con gli strumenti poi magari successivamente col fuoco quindi io insegno sia il movimento con gli strumenti tutto legato al movimento quindi anche le bolas i bastoni non insegno una hop e ventagli ma ci mancherebbe manca poco insegno anche quello quindi sì non solo fuoco ma tu fai spettacoli anche in inglese quando vai in giro per l'Europa racconti la storia di Uluc in altre lingue o lo fai con la mimica allora Scirocco è uno spettacolo nuovissimo ci sto lavorando da molto ma per ora ho la messa in scena solo in italiano però non ti nego che passato quest'anno comincerò a preparare il materiale anche in inglese spagnolo e francese perché insomma sarebbe bellissimo poterci viaggiare esatto e noi ti auguriamo di portare la storia di Uluc in giro e di incrociare di nuovo il tuo cammino magari per qualche cosa dal vivo fatta insieme io e Flavio che raccontiamo e tu che ci bruci anche così il pubblico è contento di un po' di spettacoli effetti speciali ringrazio davvero Paolo per il vi invito davvero a seguirlo e io continuo a cercare adesso Flavio quindi tu mi dici che è prigioniero di qualche pirata ottomano adesso mi muovo per il riscatto allora si guarda nei carai del 700 niente si vai vai dai gli ordini religiosi preposti non ti preoccupi ci mettiamo d'accordo ci mettiamo d'accordo grazie Paolo e alla prossima ciao grazie a tutti And the winds don't blow And it's time for us to leave her